Il primo piano è la gestione dei profughi ucraini in Emilia-Romagna, sono ormai 18.000 quelli arrivati sul nostro territorio. La situazione più critica in Romagna, dove iniziano ad esserci contrasti e dubbi sulla accoglienza. Sentiamo il servizio di Serena Biondini. I crimini, a differenza di altre località, se li è andati a prendere. Appena è scoppiata la guerra, attraverso l'Associazione Italia per l'Ucraina e un gruppo di alberghi, arrivavano pullman sul nostro territorio e venivano gestiti da un numero di alberghi. Perché a Rimini sono arrivati 3.200 profughi ucraini più che nell'intera provincia di Bologna? Perché il gestore di un albergo sotto sfratto esecutivo riempie l'hotel di donne e bambini in fuga dalla guerra? E perché altri con procedimenti giudiziari in corso non vogliono che i profughi vengano trasferiti in strutture d'accoglienza? Sono alcune domande che sorgono di fronte alla crisi dei profughi in Riviera. Una situazione esplosiva con 700 rifugiati, ospiti di una dozzina di alberghi privi di convenzioni, molti anche dei requisiti richiesti dalla protezione civile. Dalla sera alla mattina abbiamo visto aprire strutture alberghiere, non mi permetto di dire se regolari o non regolari, ma sicuramente non verificate dagli organi competenti. La prefettura sta tentando di trasferire parte dei profughi fuori provincia, ma si scontra con la resistenza degli albergatori e le paure dei rifugiati. Il Ministero ha disposto il trasferimento di 400 persone fuori dalla regione per alleggerire la rete e inserirli nelle altre province in apposite strutture di accoglienza gestite dalla prefettura. Purtroppo solo 128 persone hanno accettato questo trasferimento, e gli altri sono rimasti ancora nelle stesse strutture alberghiere con oneri a questo punto a carico degli albergatori. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Il timore è che l'emergenza umanitaria diventi terreno fertile per infiltrazioni criminali. Facciamo massima attenzione, cerchiamo di agire nella lega.